Venerdì mattina un uomo armato di coltello ha ucciso un insegnante e ferito gravemente altri due dipendenti in un liceo di Arra, nel nord della Francia. Secondo le prime informazioni, verso le 11 l'aggressore, un ventenne di origini cecene e probabilmente un ex allievo, ha fatto irruzione nella scuola al grido di Allah Akbar. L'autore dell'attacco, arrestato insieme al fratello, risulta schedato come a rischio radicalizzazione.